Siamo alla guida della Ranger Rover Velar, Carolina dacci qualche tuo feedback. Beh, devo dire che sono felicissima che mi sia stata segnata quest'auto perché è spaziale, è comodissima, io poi sono un'amante dei SUV e quindi questa per me è un po' la regina o il re dei SUV, a seconda che sia maschile o femminile, è spaziosa, è super tecnologica e poi è elegante, che è la cosa che per me è molto molto importante.